Attraversava la strada regionale 71 sulle strisce quando è stata colpita dallo specchietto di una macchina. Un violento impatto che l'ha fatta finire a terra, ma l'automobilista non si è fermato proseguendo la sua marcia verso la città di Arezzo. La fuga del pirata della strada fortunatamente si è conclusa poco dopo quando è stato individuato e fermato. È successo a Castiglionfiorentino dove una macchina bianca, dopo aver sorpassato una serie di auto, ha colpito la donna che attraversava il conducente. Un uomo di 43 anni di Cortona è scappato a quel punto in direzione Arezzo, ma i testimoni dell'investimento hanno subito avvertito la polizia municipale di Castiglionfiorentino. Gli agenti a loro volta hanno così allertato 112, 113 e i colleghi aretini. Dalla visione delle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono riusciti ad individuare la targa della macchina in fuga. Dopo nemmeno 30 minuti, una pattuglia della polizia locale di Arezzo ha individuato e bloccato l'auto ricercata. Il conducente è stato denunciato per omissione di soccorso e gli è stata ritirata la patente. La donna, una cinquantenne di Castiglionfiorentino, è stata invece dimessa dal pronto soccorso dell'ospedale della Fratta con una prognosi di 10 giorni. Grazie.